Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono JokerWaySeer2000 e oggi andiamo qui su FIFA Diceo a tutti i miei team per fare un'altra partita, e la versione che andrà oggi è una giocata della Bundesliga, è una leggenda che è il portiere, e alcuni si comincia anche il gioco della Premier League, da lui, Baili, Herrera, però l'avanzia partono della Bundesliga, però questa è una buona difesa con un buon dengang, buona difesa, migliore anche di quella della partita precedente, del video precedente, si comincia raga, debba abbattere il calcio inizio, adesso Pesic, hai qua in vai, contro Pesic, viene fermato a Alaba, dovete essere da Herrera, Llorisso, Danabri, Miranda, e subito commettiamo fallo, Herrera, Baudeng, Herrera, che si è nato Llorisso, cavolo, ecco Rigi, grande Pjanic, vai Perisic, e Iguain, Perisic, Amsic, Iguain, provaci Iguain, palo raga, palo, con una parola del portiere, attenzione, Amsic, un'altra parola del portiere raga, un'altra parata, Marco Reus è certamente una delle stelle più brillante di questo match, vedremo come se la caverà, è un giocatore da rendimento costante, so vai lì, Sorrisso Herrera, Calabri, e Boron ci ferma, vai Florenze, è tuo, grande Andanovic, sempre Andanovic, ci pensa, sempre Kolarov, Struttman, Pjanic, vai Amsic, ecco Iguain, tutto solo contro Baylis, chiuso proprio da lui, Goretzka, Pjanic, attenzione a Calabri, Calabri, che giocata, grande Kolarov per Palla Adesso Pjanic Amzic Bravolo Che questi passaggi intercettano Vai qua in Pjanic Buateng C'è un Buateng Buateng Galabo Royce raga Questo corre raga Royce Questo corre Royce La mette in mezzo Quanto è andato Vai Perisic Dai Gonzalo Vai Quain Vai Quain Provaci Hai sempre sobbai Guarda C'è ferma Sempre sobbai Ecco Herrera Goretzka Royce Palla schizzaria Pjanic Bernard Rischi Guain Passaggio ancora un'altra Intercettare Valencia Grande Perisic Ce l'avevano Per un attimo Era per pensare Che l'avesse ripresa Che l'avevano ripresa Invece L'avevano ripresa Invece Ce l'aveva di nuovo Lo stesso Lo stesso La scuola avversaria Pernabri Herrera Bernard Rischi Bernard Rischi Bernard Rischi Bernard Rischi Hamzik Quain Verisic Lo è Fermato Verisic Verisic Eccolo Rischi Grande Pjanic Raga Perisic Struttman Grande Hamzik Perisic Di Guain Kolarov Perisic Struttman Ancora la difesa Attende Le cura Il pallone Herrera Herrera Granada Rì Reus Reus Ancora Goretzka Ed è una zera Troppo C'è una zera Questa squadra Cavolo Anche questa squadra Questa squadra Questa squadra Questa squadra Questa squadra Questa squadra Alla colpa Per Iguain Vai Iguain Ancora la nostra La palla Provaci Iguain E ancora il portiere E ancora il portiere Per la seconda volta Su Iguain Seconda volta Su Iguain Herrera Goretzka Vai Hamzik Iguain Provaci Calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Indica il dischetto E mi sembra abbastanza Incredibile Che non abbia Preso provvedimenti disciplinari Anche secondo me Questo era un intervento Da punire Severamente Vai Pjanic Putala dentro Vai Pjanic Viralem Ragazzi Pjanic E 1 a 1 Ragazzi E 1 a 1 Vai così Vai così Vai così Nessuna esitazione Nessun nervosismo Le gambe non gli sono tremate Ed è riuscito a battere Il portiere Hanno parecciato Dunque 1 a 1 Pjanic Vai Bernardeschi Amzik E Ivan Beric Fermato dal difensore avversario Goretzka Goretzka E ancora Bonucci Che attenzione Grande Florenzi Che le cura palla Vai sotto man Amzik Higuaín Amzik E ancora Higuaín Dai Higuaín Provaci Che grande parola del portiere Su Higuaín Su Higuaín Calcio tangolo Perfice tua Palla Palla Fuglia Adesso Higuaín Che è già battuto E Golarov Palla Venga di nuovo Ecco Alaba Adesso Che è scatto Sulla fascia L'ha passato Lì so Ancora Gniabri Andre Florenzi E Alaba Tolisso Herrera Arriva Royce Ai Bonucci Senza problemi Qui per la difesa Ai Zrotto Vanno Perisic Ai Perisic Non di far fermare Grande Che riesce Ancora Derebbe il possesso Palla Che il favore nostro Ma poi Amzik viene fermato Ottimi Tuoi passaggi L'arbitro Manda Le squadre Negli sfogliatoi Dopo Primo tempo Equilibrato Che sicuro L'ha passato Lui Abbiamo Abbiamo Fatto Noi più Tiri Raga Noi più Tiri Noi più Tiri L'abbiamo Fatto Ma purtroppo Siamo un'ora Adesso si ricomincia Raga Si ricomincia Sicuramente Battere Lui Il calcio Inizia Così Comincia La seconda Frazione Di gara Guerrera Reus Guerrera Grande Perci Ricora Palla Amzik Pjanic Bernardeschi E bruci Iguain Grande Pace Iguain Fermata L'ultima Prezza Stava caricando Il titolo Vai Perci Ricora Palla Pertile In mezzo Iguain Raga Pertroppo Palla Non entra Palla E scenduti Amzik Prezic Amzik Vai Prova Amzik Ancora Il portiere Vai Perisic E Giro Il portiere Ragazzi Voi Il portiere Orici Esco Reus Valencia Valencia Tolisto Errera Orici Attenzione Rai Era convinto Che Fattuto L'Ugole Invece Araccia Siamo salvati All'ultimo Incredibile Io l'avevo già vista Dentro Vai Amzik Vai 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 In su Di lui Vai L'attenzione Di lui La riprende Ottima Parata Ancora Il portiere Avversario Vado Quante parate Vado Quante parate Florenzi Vai Vai Finita Attenzione Occhio La ripartenza Orici Se mi abri Tolisto Tolisto Koretzka Reus Grande Florenzi E Amzik Ancora passaggi intercettati Centrano questi avversari Occhio al suo movimento General Royce Grandis Rotman Bernardis Che Amzik Dai Gonzalo Dai Gonzalo Eguain Dai Guain Dai Guain Tutta lì e mezzo Perisiccio L'istinto del portiere E' ancora il suo portiere Madò E' ancora il suo portiere E' ancora il suo portiere Che para Tutto Orici Herrera Odici Passata Perciò Il paretico Ottimo Sedi passaggi Dei giocatori Travessuali Eccone Abri Etenzione Royce Ottima La lettura Di pezzare Che ha capito Tutto Arrequale Amzik Tutto L'amanti Ai Guain Grande Ma ancora Bode Fermato Abbo E' ancora Bode Prima Che prende I Palli Marco Royce Benziano Royce E' Miranda Cavolo Vai Florenzi Bernardeschi Passaggio Intercettato Cavolo Cavolo Poi In questo Secondo Temo Già Con Troppo Forte Nostra Ciccola Troppo L'altro Suo Portiere Suo Portiere Stratman Stratman Iguain Amzik Si contendono Il controllo Del pallone Orici Siamo entrati Negli ultimi 20 minuti Della gara Goretzka Valencia Ripita Iguain E' Ben Aldischi Vai Amzik Fermato A Boten Gara Ancora Madonna Che difensori Che difensori Origi Grande Pianic Recupra Palla Vai Guain Sempre Difensori A volte Portiere A volte Difensori Madonna Poi Sembrano Dei Robosi Attenzione Grande Andanovic Grande Copertura Di Manca Ancora Un quarto Amzik Solt Man Ci sono Metri A disposizione Vai Perisic Butta Le in mezzo Mettile In mezzo Pesic Iguain Valencia Ancora Sti difensori Spau Covrano Bene Goretzka Intervento Efficace Le difensore Che intercette Il lancer E' Solt Man Amzik Iguain Fermato Ancora Da Prezzo Herrera Reus E' Amzik Ancora Andanovic La Fortuna C'abbiamo Andanovic Che ferma Ieri Della Scura Avversaria Vai Amzik Vai Florenzi Tutto La Mezzo Grande Florenzi Vai Amzik Iguain Colpisce Esterne La Rite La Palla Colpisce Esterne La Rite La Palla Per Segnare Però La Serrera Peccato Valencia 5 minuti Alla Fine Per Per Cambiare I Pinari Di Questa Gara Continuo Valencia Lo Esterne Origi La Palla Sostrotta Ma Ancora Possesso Pari Della Scuola Avversaria Con Origi Siamo 87 Siamo All'ultimo Sempre La Palla Esce Ancora Fuori Esce Fuori Sta Palla Toris Attenzione A Toris Come Un Come Un Tra Ancora 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 Veramente Salvat La Squadra E Guain Grande Guain E Ancora Sto Buon Degra C Fem Madonna Olisso Lo Dici Royce C'è Spazio Per Andare Si E Sbarcato Con Gran Class E Qualità Bravo Qui Il Diferenzore Che Lai Ben Nard Di Scriverà Una 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 Questa volta Ci hanno Fermato Le parate Del portiere Avversario Questa Volta Questa Oltra Secondo me La Vittoria Ce la Venitavamo Questa Volta Questa 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 è piaciuto commentate condividete se siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao